Buona serata e ben ritrovati con l'ultimo appuntamento in diretta per l'informazione di TV12 che apriamo con la cronaca. Due persone detenute nel carcere di Udine hanno appiccato il fuoco a cuscine e materassi nella propria cella. È successo questo pomeriggio un gesto di protesta per ragioni che devono ancora essere chiarite. Il gesto è stato inscenato nel pomeriggio e ha costretto la polizia penitenziaria ad allertare i vigili del fuoco. Nell'incendio sono andate distrutte anche le suppellettili contenute all'interno della stanza. Il fumo intenso si è diffuso rapidamente pure nei corridoi della casa circondariale di via Spalato. Le fiamme sono state domate nell'arco di qualche minuto dai pompieri senza che ci fosse l'esigenza di evacuare la struttura. La situazione è immediatamente rientrata, ha fatto sapere il direttore del carcere Tiziana Paolini. Sul posto anche gli agenti della polizia e i carabinieri. E ora andiamo a riassumere tutti gli altri fatti di giornata attraverso i nostri titoli e i servizi a partire dai bilanci della prefettura di Udine e della giunta comunale del capoluogo friulano. Poi passando per quanto riguarda le novità sul fronte occupazionale degli accordi della Confindustria Alto Adriatico con la Regione e ancora le notizie relative al territorio. Vediamo. Un anno impegnativo soprattutto sul fronte migranti ma soddisfacente. Così il prefetto di Udine Marchesiello ha riassunto il 2022 nella conferenza stampa di fine anno assieme a carabinieri, guardie di finanza, vigili del fuoco e polizia. Un anno che ha visto più controlli sul territorio come richiesto dai cittadini ma ha detto il questore. Siamo in una realtà vivibile e serena. Anno complesso che chiudiamo con soddisfazione i risultati importanti e il bilancio invece di Pietro Fontanini e della sua giunta nella consueta conferenza stampa di fine anno. I finanziamenti ricevuti dal governo superano i 60 milioni. L'opposizione attacca. Ci sono la crescita di disagio, una sanità in piena crisi e problemi tenuti sotto il tappeto. Tre gravi episodi nelle ultime 24 ore tra Codroipo, Porpetto e Prato Carni. Con 25 anni in gravissime condizioni ricoverato a Udine dopo essersi ustionato mentre armeggiava con gli attrezzi in giardino. Un anziano ferito a causa dello scoppio di una bombola del gas. Due turisti intossicati dal monossido in carne. Tommaso Cerno e Stefano Balloc hanno detto sì. La cerimonia dell'Unione Civile è stata celebrata oggi al monastero sconsacrato di Santa Maria in Valle a Cividale. Suggelato l'amore tra l'ex sindaco della città Ducale, esponente di Forza Italia, e il giornalista friulano, ex senatore del PD, attuale direttore del quotidiano L'Identità. Conferenza stampa di fine anno questo pomeriggio da parte del prefetto Massimo Marchesiello che nella nuova serie del Palazzo del Governo in via pracchiuso ha riunito il questore, i comandanti provinciali di Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco proprio per tracciare un bilancio di quanto fatto in questo 2022. Un anno particolarmente impegnativo iniziato con l'emergenza legata al coronavirus e poi le manifestazioni dei Novavax, la guerra in Ucraina con l'arrivo di tanti profughi. Sono attualmente 400 circa i profughi ucraini accolti dalla Prefettura in collaborazione con una quindicina di comuni della provincia di Udine. E poi il tavolo di monitoraggio avviato con la Caritas proprio per aiutare le persone in difficoltà economiche e non da ultimo l'impegno nella gestione dei migranti che arrivano attraverso la rutta balcanica. Ci sono stati momenti difficili in particolare a settembre quando erano più di 900 i migranti accolti all'ex caserma Cavarzerani. Allora di tutto questo abbiamo parlato con il prefetto Marchesiello, sentiamo quello che ci ha detto. Sicuramente sono stati momenti di tensione, di apprensione quando non avevamo più posti nella Cavarzerani e su questo un attimo di preoccupazione c'è stata. Poi sicuramente anche tutte le fenomenologie legate ai Novavax, quindi le forme di contestazione, di protesta, di insubordinazione sono state anche quelle importanti e su questo un attimo di riflessione ci viene sempre a tutti. Dovrei dire che comunque è stato un anno impegnativo ma da questo punto di vista soddisfacente. Il prossimo anno vedrà Udine ospitare la donata degli alpini, c'è questo importante appuntamento e poi? E poi va bene, anche una tappa importante del Giro d'Italia che non dimentichiamoci, insomma va molto in alto con tante difficoltà e tante pericolosità, quindi un maggio importante. E negli ultimi mesi c'è stato anche un potenziamento del controllo del territorio nella zona di Borgostazione, ma non solo con l'impiego dell'esercito, un'attività valutata positivamente da tutte le persone che oggi erano presenti a questa conferenza stampa. Il questore Alfredo D'Agostino, parlando della provincia friulana, ha parlato di una realtà vivibile e serena. Andiamo a sentire le sue parole. In questi mesi c'è stato un potenziamento dei controlli del territorio? C'è stato un potenziamento che corrisponde a una maggiore richiesta di sicurezza da parte della collettività, che non sempre è contraltare di dati statistici che vanno in questa direzione, è più dare soddisfazione alla percezione di insicurezza che invece ha un peso specifico importante. Prima hai parlato anche del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Lei ha sottolineato il fatto che c'è tanta domanda e bisogna chiedersi perché. Sì, è un tema che mi ha, devo dirle la verità, un po' colpito, perché c'è effettivamente, ce lo restituisce la statistica anche in questo caso, ci sono diverse attività che ci hanno portato all'arresto di spacciatori e questo ci dice che c'è una domanda importante. E prima di restituire la linea allo studio vi proporrai anche un estratto dell'intervista che abbiamo realizzato al comandante dei carabinieri, il colonnello Ianiello, sul fenomeno dei furti nelle abitazioni. È un fenomeno che è iniziato subito dopo l'estate, che ha avuto un incremento importante nella fascia provinciale partendo da sud fino a raggiungere poi i paesi sopra Udine, insomma, quindi a nord di Udine. Sono state impiegate diverse pattuglie dalle forze dell'ordine, coordinate nei settori che ritenevamo maggiormente critici e questo al momento ha consentito di infrenare, quindi ridurre notevolmente il numero di episodi se non addirittura zerarli in diversi giorni della settimana. Un anno scandito da tante soddisfazioni sotto diversi punti di vista, a cominciare dai 60 milioni di euro di finanziamenti arrivati a Udine del governo fino alla tarifa sui rifiuti che si attesta come la più bassa in Italia e ancora l'impegno sul piano culturale, culminato nell'acquisizione dell'ex Cinema Odeon, l'attenzione per gli anziani e tanti cantieri in partenza per rendere la città più bella e vivibile. Così il sindaco Pietro Fontanini ha parlato del 2022 per il comune di Udine, affiancato dalla sua giunta nella conferenza stampa di bilancio. Si chiude bene, soprattutto per le case comunali, perché è stato un anno anche difficile, e con il caro dell'energia abbiamo dovuto attingere all'avanzo dell'amministrazione per più di 5 milioni per coprire le spese e soprattutto per i riscaldamenti nelle scuole. Però ce l'abbiamo fatta ed è stato un anno dove, come sempre, in questi 5 anni non abbiamo chiesto più soldi ai cittadini. Abbiamo amministrato, in pratica, diminuendo allo stesso tempo il debito del comune. Quindi sono molto soddisfatto perché tante opere realizzate, tante cose fatte, dando soddisfazione, in pratica, anche alla concretezza, alle promesse che avevamo fatto in campagna elettorale. E quando abbiamo capito il dramma che la popolazione ucraina avrebbe sopportato con questa guerra, con questa invasione, ci siamo mobilitati e siamo riusciti a dare risposte concrete a tante persone, con strutture comunali. Il primo cittadino ha detto di guardare al 2023 con ottimismo, preparandosi alle elezioni comunali che dovrebbero svolgersi indicativamente il 2 aprile o il 7 maggio. Faremo campagna elettorale, ci confronteremo, chiederemo ai cittadini di votarci perché abbiamo realizzato tante cose e abbiamo altre ancora da completare. È slittata martedì 3 gennaio l'autopsia originariamente programmata per oggi sulla salma dello sciatore morto ieri sulle nevi del Piancavallo. La procura di Pordenone, che indaga sul caso, ha deciso di differire l'esecuzione per consentire alla famiglia della vittima, che risiede in Toscana, nel Pisano, anche se lo snowboarder originario di Hong Kong, di nominare un eventuale perito accanto al professionista già incaricato di eseguire l'esame per conto della magistratura. Le indagini dei carabinieri, proseguite anche nella giornata odierna, non hanno fatto emergere nuovi particolari. Non ci sono testimoni della caduta, avvenuta a centro pista e lontano da qualsiasi ostacolo e dunque non è stato possibile stabilire cosa sia accaduto in quei tragici momenti. La zona della pista è piuttosto impervia e non è coperta da alcuna telecamera di sorveglianza. Da un primo accertamento sembrerebbe emergere una lesione cervicale, non chiaro ancora se sia stata provocata da una caduta o da uno scontro, ma per ora gli investigatori escludono il coinvolgimento di altre persone. Rimane il fatto che l'incidente non ha avuto testimoni e per questo risulta difficile ricostruire l'accaduto e l'eventuale coinvolgimento di terzi. Sarà l'anatomo patologo, incaricato dalla procura di Pordenone, a stabilire se il decesso sia avvenuto per un trauma o per un malore che ha a sua volta causato la caduta dalla tavola da snowboard. È stato firmato dal vicepresidente della regione Riccardo Riccardi e dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti l'accordo VHP Workplace Health Promotion per la promozione della salute sui luoghi di lavoro. Nella sede degli industriali a Pordenone è stato presentato questo progetto pilota a cui per ora aderiscono circa 20 aziende, tra cui Electrolux e Savio, e che coinvolge i lavoratori nella creazione di uno stile di vita sano con proposte di ogni tipo. Si parte dall'alimentazione per arrivare alla creazione di palestra negli stabilimenti, sportelli di supporto psicologico e attività per aiutare a smettere di fumare. Una delle grandi questioni della risposta sanitaria è la proprietà. Questo è un progetto svolto nei luoghi di lavoro, come dovremmo proseguirlo nelle scuole, in tutti i luoghi in cui le persone sono presenti, che spiega e sostiene le attività che devono essere fatte in modo appropriato. Considero la questione della salute la grande questione democratica di questo paese. Naturalmente la questione della salute non ha a che fare solo con ospedali, ambulatori, cliniche, ma ha a che fare anche con gli stili di vita, con le opportunità che abbiamo in tutti i luoghi dove svolgiamo le nostre attività, a partire dalle aziende nel nostro caso. E quindi creare le condizioni per cui ci sia una popolazione in salute significa anche garantire un modo di produrre in modo sostenibile. Spesso parliamo della sostenibilità come una cosa che riguarda l'ambiente, riguarda molto di più anche la condizione di salute delle singole persone. Si aspettava solo l'ufficialità, visto che era stato annunciato da diversi giorni. Il Comune di Trieste ha ufficialmente avviato il bando di gara per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera Codice 22014 Cabinovia Metropolitana Trieste Portovecchio Carso. La nota del municipio diramata oggi rimanda ai portali ufficiali, quali la Gazzetta Europea per i bandi di gara e a breve anche la Gazzetta Ufficiale Italiana per visualizzare i dettagli della procedura. Uniter che inquadra l'opera sotto la dicitura di sistema di trasporto a fune con cabine per un valore totale stimato di 52.771.189,68 euro IVA esclusa in un quadro economico di circa 62 milioni di euro. Un appalto non suddiviso a lotti che come durata contrattuale prevede 705 giorni di lavoro, praticamente due anni. Nei criteri di aggiudicazione la dicitura è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Viene confermata dunque nei fatti l'intenzione della Giunta di proseguire spediti verso tutte le procedure necessarie per restare nei tempi del PNRR. Riguardo un'opera però che viene contestata da una fetta della popolazione in maniera trasversale rispetto al credo politico. Vero è che fra i banchi e dell'opposizione è praticamente unanime il sentimento di avversità verso la cabinovia, ma riguardo un argomento del genere è più la sensazione personale che la linea di una corrente a guidare il giudizio dei cittadini. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 6 febbraio del 2023 alle 12.30. L'apertura delle buste avrà luogo il giorno dopo, 7 febbraio alle 9.00. Capodanno 2022, cosa proporrete a Udine? Quest'anno sarà un Capodanno risparmioso, nel senso che non faremo i fuochi d'artificio per un discorso di economia e manca di rispetto per gli animali, però c'è una bellissima iniziativa nella loggia Lionello, quindi il Capodanno in loggia con Radio Gioconda, con animazione e musica per tutti coloro che vorranno festeggiare in Piazza Libertà, la piazza più prestigiosa della città di Udine, con quella magnifica stella che è stata allestita per il Natale e quindi un'occasione per farsi gli auguri di Natale non solo ai cittadini udinesi ma anche ai tanti turisti che ci auguriamo vengano in città. Quindi un menù con cui Udine torna al Capodanno in piazza dopo due anni di restrizioni e di limitazioni. Sì, purtroppo alle passate edizioni non è stato possibile farlo appunto legato proprio alle restrizioni Covid, quest'anno non siamo più in quella situazione lì per cui io penso che tanti avranno voglia di festeggiare, di festeggiare in sicurezza perché comunque è all'aria aperta, con musica e animazione, in una corneccia spettacolare come è appunto la loggia. Io mi auguro che questo venga apprezzato e soprattutto che torni con la voglia di stare assieme, di socialità e di fare un brindisi per augurarci un 2023 e che io mi auguro sia migliore per tutti, sia positivo e di assegnare di speranza e di fiducia a tutti. E nel pomeriggio si è tenuto a Cividale del Friuli il matrimonio, l'unione civile tra Tommaso Cerno e Stefano Balloc che hanno detto rispettivamente sì. La cerimonia si è tenuta all'interno del monastero sconsacrato di Santa Maria in Valle, suggellando l'amore tra l'ex sindaco della città Ducale, esponente di Forza Italia, il giornalista Friulano, ex senatore del PD, attuale direttore del quotidiano L'Identità. A celebrare l'Unione Civile, Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigheia, affiancato dall'attuale sindaco di Cividale Daniela Bernardi e dagli amici della coppia che hanno festeggiato assieme a loro. Per quanto riguarda invece le notizie, a carattere nazionale e internazionale sale l'allarme Covid dopo la riapertura delle frontiere decisa da Pechino. L'Italia impone l'obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina. La relazione del ministro Schillacci in Consiglio dei Ministri, riflettori sugli aeroporti, a Malpensa, un passeggero su due, sarà sottoposto al test ed è risultato positivo. Torna pure lo screening a Fiumicino. L'ospedale Spalanzani a Roma avverte sul rischio di nuove varianti, occhi puntati sulla sottovariante del virus, nota anche come Gryphon. La Francia si è detta pronta a prendere tutte le misure utili con l'Unione Europea, preoccupazioni anche sui mercati. Le opposizioni chiedono al governo di informare al più presto il Parlamento. Governo che è al lavoro con gli ultimi dettagli per quanto riguarda lo spazzacorrotti, presentato un ordine del giorno al decreto Rave. Il Consiglio dei Ministri si è riunito in serata e il centro-destra potrebbe votare in aula con il terzo polo sul decreto Rave, sul quale la Camera sta votando la fiducia che impegna il governo a cancellare la riforma della prescrizione dell'ex ministro Bonafede, la cosiddetta spazzacorrotti. No, però, di 5 Stelle e Partito Democratico. Il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha presentato parallelamente anche il pacchetto immigrazione del decreto sicurezza che prevede una stretta sulle ONG che operano nel Mediterraneo. Informativa anche sull'Exilva da parte del ministro delle imprese Urso e un decreto con le misure per gli impianti di interesse strategico nazionale. Proroga poi di due mesi fino a giugno 2023 per la sospensione delle modifiche unilaterali ai contratti di luce e gas che però non si applicherà più ai rinnovi di quella in scadenza. Quindi le società fornitrici potranno modificare le condizioni generali sul prezzo rispettando il preavviso di tre mesi e quanto prevede l'ultima bozza del mille proroghe. Possibili quindi anche gli aumenti. Il ministro Fitto annuncia intanto che l'Italia ha raggiunto i 55 obiettivi previsti dal PNRR per il secondo semestre del 2022 grazie anche al dialogo costruttivo con la comunità europea. Peggiorano le condizioni di salute di Benedetto XVI che sono peggiorate già prima di Natale per problemi respiratori. Al termine dell'udienza nell'aula nervi in Vaticano Papa Francesco ha chiesto una preghiera speciale per il Papa Emerito che è anche molto ammalato, ha detto. Ratzinger, 95 anni, è stato eletto Papa, lo ricorderete, il 19 aprile del 2005 e aveva rinunciato al soglio pontificio l'11 febbraio del 2013. Il suo stato di salute al momento resta sotto controllo, seguito costantemente dai medici, ha detto il direttore della sala stampa Bruni, aggiungendo che al termine dell'udienza il Papa è andato al monastero Mater Ecclesiae per far visita proprio a Ratzinger. L'ora l'aggiornamento rispetto al gravissimo fatto di cronaca accaduto in provincia di Padova è stata affermata dopo un lungo interrogatorio nella notte con l'accusa di aver ucciso la madre di 84 anni e ferito gravemente il padre di 89 nella loro casa di San Martino e Lupari in provincia di Padova Diletta Miatello, 51 anni. La donna non ha ammesso il delitto ma la sorella minore l'ha accusa senza incertezze. Secondo gli investigatori la tragedia è maturata per la progressiva instabilità psicologica di Diletta, ex vigilessa, ora disoccupata dopo la separazione dal marito e l'affidamento del figlio al padre sfociate in liti continue legate alle continue richieste di denaro ai genitori. Ed ora allo sport con l'Udinese in primo piano che è arrivata a Cremona per la sfida amichevole di domani che vi trasmetteremo live a partire dall'ora 13, tutti gli aggiornamenti della squadra di Mr. Sottil con un'intervista anche a Biol e poi il punto mercato sull'Apu Old Wild West. L'Udinese si prepara a chiudere l'anno solare 2022 con l'ultimo test amichevole che profuma ancora decisamente di Serie A. Dopo il 2-0 casalingo rifilato a Lecce con gol di Beto e Nequen Perez i bianconeri potranno prendersi un'altra piccola rivincita contro un'altra squadra che gli ha imposto un pareggio durante il campionato. Si torna infatti allo Zini dove nel turno di Serie A la partita terminò 0-0 tra tanti rimpianti. Soprattutto per quell'occasione clamorosa cestinata da Gerard de Lofeo all'ultimo secondo della partita dopo bell'assist di Lazar Samarzic. Avrà occasione di rifarsi dunque l'Udinese ma non il singolo protagonista dal momento che non ci sarà il catalano allo Zini di Cremona. Il numero 10 non è ancora rientrato in gruppo e per questo non farà parte della spedizione bianconera. La sensazione è che avrebbe comunque prevalso la cautela per tutelare l'ex Watford dopo lo stop occorso in quel di Napoli nell'ultimo turno di Serie A giocato. Resta del cauto ottimismo sulla sua presenza in campo per la sfida contro l'Empoli del 4 gennaio anche se Beto e Saxè s'hanno dimostrato in queste amichevoli di poter sopperire con tranquillità l'eventuale assenza del catalano che però non si è mai risparmiato seppure lavorando sempre a parte con esercizi di corsa e cambi di direzione. Al suo fianco c'è stato sempre nelle ultime sedute anche Adam Masina che punta al recupero per febbraio per qualche test con la primavera prima di rientrare a disposizione di Sottil. La trasferta di Cremona alla quale non parteciperà Iaialo per una lieve distorsione al ginocchio che gli ha fatto saltare l'ultimo allenamento dovrebbe invece far rientro Udoge che così tornerà a disposizione dopo Makingo e Bekao. Il quadro per Sottil si sta per completare. Ha praticamente una settimana dal restart della stagione di Serie A dopo la lunga pausa per i mondiali in Qatar il gruppo è pronto a ripresentarsi quasi al gran completo. Obiettivo bissare l'ottimo inizio di campionato di agosto e settembre ricominciando subito da rinnovare il ricordo del successo che resta datato 3 ottobre scorso quando Biol di testa nei minuti di recupero supera la resistenza del Verona l'Empoli ha avvisato, l'Udinese ha subito fame di punti. Come si sta a lavorare in Russia e in Germania and of course you learn something new everywhere you go and it helped me a lot during my career and I think I will learn a lot of new things here in Italy as well. Come si sta a lavorare in Italia? Yeah, of course it's always nice to help with goals but the most important thing is that you are constant, that I'm constant and that I play good every single match and not only when I score goals. Ah, not really, not really. Ah, look the best teams in the world, how they play, how they defend and I think that you can only learn from the best. I think the defender makes great when he is consistent, when he plays good every match, when he is a leader on the pitch and when he can give everything for the team. I would not like to say one guy but I think there are a lot of really good defenders and now we are watching World Cup and I think Guardiola is playing a really fantastic World Cup but of course there are a lot of other defenders as well. After having found success in the championship against Ferrara, the P.U. Old West Udine si appresta a chiudere l'anno solare prima di rituffarsi nel Girone Rosso con la seconda trasferta lunga in Puglia a San Severo. Prima c'è da onorare un appuntamento molto importante che è quello dei quarti di finale di Coppa Italia contro Cantu. Udine ci arriva paradossalmente da sfavorita come quarta del Girone Rosso con ticket strappato dopo l'incredibile sconfitta di C.Vidale contro chiusi sulla Sirena altrimenti sarebbero stati giallo-blu a sfidare la squadra che sta dominando il Girone Verde. Cantu sta cercando la risalita in A1 guidata da una squadra molto compatta che sta trovando il miglior Stefan Nikolic che vanta un passato alla P.U. Old Wild West. La squadra lombarda vuole prendersi una rivincita di una finale di Coppa Italia a Rosso persa anche per via dei tanti problemi legati al Covid contro un Udine troppo più in forma al momento. Intanto il presidente Pedone è intervenuto in Teichel sull'organico a disposizione e ha ridisegnato la squadra con l'acquisto di due pezzi da 90 dopo l'annuncio di Ale Gentile. Infatti la P.U. si è assicurata le prestazioni di Diego Monaldi, fresco-reduce da due promozioni in A1 con Napoli, proprietà anni di Udine con gara 4 vinta al Carnera e Scafati. Monaldi, combo play guardia dalla grande visione di gioco e dalla freddezza innata, arriva proprio da quella Scafati dove appena ha prodato l'ex Ocoye farà il percorso inverso. Fabio Mian che saluta Udine dopo non essersi incastrato con il gruppo friulano è lui il secondo taglio dopo quello di Federico Mussini a casatosi a 100 che in classifica resta 4 punti avanti a Udine insieme a Pistoia e Forlì. Tutte squadre protagoniste nei quarti di finale di Coppa Italia per arrivare alle Final Four. I due nuovi acquisti non dovrebbero essere protagonisti in questa sfida. Boniciolli punterà prima sul gruppo più consolidato per inserire con più calma Gentile Monaldi in vista della trasferta del 4 gennaio contro la cestistica San Severo che ha superato Udine nelle semifinali di Supercoppa. È tutto per questa edizione. Ricordiamo l'informazione tornerà su TV12 domani puntuale alle 7.35 con la nostra rassegna stampa. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti.